Degli anni tutti gli altri amministratori che hanno condiviso questo percorso che dal 1995 va avanti e che è garantito quello che abbiamo detto prima. Queste persone, io, siamo, saremo a disposizione. Adesso abbiamo un mese, poco più, di campagna elettorale. Vi chiedo di esserci vicini, di sostenerci, di essere parte attiva di questa squadra, di queste persone, di aiutarci a poter condividere con tanti altri cittadini offidati questo nostro impegno, questa discesa in campo. I protagonisti siete sempre e comunque voi. Voi siete sempre stati, per noi lo continuerete ad essere e lo sarete anche in futuro. Offida adesso è, vi dicevo, lo slogan. Protagonista di Offida, tante cose messe in campo, tanti cantieri avviati. La nostra Offida sta cambiando, continuerà a cambiare. Continuerà a cambiare però avendoci ben in mente essenzialmente due obiettivi. Sicuramente il lo sviluppo, ma che nessuno debba rimanere indietro. Questo lo abbiamo sempre fatto. E' stato il capo sapi dell'attività amministrativa della nostra attività nel corso dei decenni. Questo continuerà a essere. Sviluppo, ma guardando a chi comunque è più debba. Perché questo è l'obiettivo per un amministratore di servizio e di popolo. Grazie di esserci stati, grazie per tutto quello che riuscire a darci nei prossimi mesi. Forza e coraggio. Offida è grande, offida continuerà ad esserlo. E offida sulla democrazia, continuerà ad essere il presupposto dello sviluppo futuro. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti.